Ho voluto ripristinare una storia personale di cui per due anni mi sono privato e mi hanno privato. Io sono una persona che nasce a Bologna, cresce a Bologna, ho fatto tante cose qua, avrei potuto benissimo candidarmi anche senza le sardine, chi mi conosce lo sa, e quindi ho voluto semplicemente dare voce a quella storia che per due anni ho messo da parte in favore di una realtà più grande, una comunità più grande che mi chiedeva in qualche modo di investire. Ho dichiarato tante volte che non mi sarei candidato ma la mia candidatura è una candidatura comunale, consigliere comunale, quindi in qualche modo cerco di rappresentare il fatto che anche se uno ha avuto una volta di fortuna o di non fortuna, diciamo di merito ed è balzata agli onori della cronaca nazionale può comunque partire dal basso e credo che sia una scelta che non tanti avrebbero fatto.